Prego Grazie a tutti Ti ho già visto da qualche parte? Già una volta ti ho lasciato andare, aspettando un tuo ritorno La mia vita è inutile, ma toglierla significherebbe cedere Allora ucciderò tutti coloro che ami, così sarai tu a venire da me Solo quando lo deciderò io? Ore dàkega, a nàtaga, il yui, o, ataeru coltogà degilu L'arrivo a riuscire il nostro canale, non so nemmeno di farlo. Quanto si è forte, l'arrivo a farlo, non so nemmeno io. no 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 Grazie, una posa davanti alla giuria. Una posa davanti alla giuria, prego. Un applauso per Cristina e Teresa. Ma io ho una domanda. Der Tod è la morte, ma è un personaggio maschile o femminile? Maschile, molto bene.